L'operazione denominata Alto Impatto continua con le azioni di controllo del territorio nell'intera provincia di Cosenza, decise in sede di riunione tecnica di coordinamento presieduta dal prefetto Vittoria Ceramella e predisposti in sede di tavolo tecnico dal questore Giuseppe Cannizzaro, d'intesa con i comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri, Agatino Saverio Spoto e della Guardia di Finanza Giuseppe Dell'Anna. In questa settimana delle festività natalizie sono state intensificate anche in considerazione dei numerosi eventi che si sono svolti in tutto il Cosentino e che hanno richiamato un pubblico molto numeroso nelle piazze di molti centri cittadini. Avvalendosi di tutte le forze di polizia, persegue l'obiettivo di fronteggiare ogni situazione di illegalità e contrastare la commissione dei reati in genere sul vasto territorio. Le operazioni hanno interessato i comuni di Cosenza, Cetraro, Cassano Alloionio e Corigliano Rossano. In questi centri sono stati effettuati numerosi controlli agli esercizi pubblici, prestando attenzione, oltre al rispetto di ogni aspetto della normativa in materia, al divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni. Inoltre, numerosi veicoli sono stati oggetto di scrupolosi controlli, come anche i soggetti sottoposti agli obblighi di legge o con pregiudizi penali. I servizi disposti hanno complessivamente consentito di conseguire seguenti risultati. 266 persone identificate, 152 veicoli controllati, 18 posti di controllo, 6 violazioni al codice della strada contestate ed un rivenimento in auto di un oggetto di furto.